Riprenderanno oggi a Castedebole gli allenamenti in vista della partita che sabato porterà l'Inter al Dallara. Occasione per parlare dei rendimenti interno del Bologna, del fatto che sarà una gara comprobabile tutto esaurito e dell'ultima vittoria rosso-blu contro una grande. In primo piano anche il mercato, con un paio di nomi per l'attacco. Corriere dello Sport Stadio. Tutto il Dallara contro l'Inter. Area di casa, prospettive di salvezza. Per dire, a parità di partite disputate in casa il Bologna ha ottenuto un punto in meno della Juventus e del Napoli, un in più del Cagliari, cinque più del Chievo. Un mattoncino alla volta, la classifica si costruisce di fronte alla curva Bulgarelli. E' il fattore campo che torna a contare qualcosa. E' una svolta rispetto all'anno scorso, quando dopo dodici giornate il Bologna aveva vinto in casa solo una partita. Furono sei alla fine della scorsa stagione contro una proiezione che invece quest'anno dovrebbe portare se il Bologna mantiene inalterata la tendenza di una vittoria ogni due partite giocate in casa a una decina di vittorie. Significherebbe salvezza certa. E' previsto il tutto esaurito, o almeno, si va verso. E' un segnale incoraggiante per una tifoseria che rispetto all'anno scorso ha perduto circa 2300 abbonati, e non sono pochi. Però il pomeriggio di Bologna-Inter può essere anche una grande occasione per una squadra che lo dicono i numeri può pensare di salvarsi soltanto dentro casa propria. Lo dice anche il calendario. Dopo l'Inter il Bologna sarà chiamato ad affrontare prima l'Udinese e poi l'Atalanta. Test impegnativi, ma ostacoli non insormontabili per un gruppo rossoblu consapevole che alla fine della fiera sarà il fattore dall'Ara a fare la differenza. 2-Bologna per Colomba. La sosta è servita a Franco Colomba anche per capire, verificare, testare chi e cosa c'è oltre la squadra titolare. Premessa. Nelle quattro partite fin qui disputate, il tecnico ha utilizzato nella formazione base 16 giocatori, con una difesa che è rimasta pressoché invariata, Viviano Piuraggi, Portanova, Lanna con il ballottaggio tra Burritos e Moras, un centrocampo che ha visto nel multiruolo Bagliani il punto fermo, L'imprescindibile Mingazzini con la Sampdori era infortunato, è un attacco che è stato una giostra dove ogni volta, tra infortuni, squalifiche e soprattutto scelte tecniche, sono saliti giocatori diversi. Al di là dell'amichevole con il sassuolo, Colomba poggia a farsi forte di alcune indicazioni precise. 1-Se Bombardini si dimostra abile e arruolato ecco che diventa la prima alternativa Lanna. 2-Vigiani tedesco portano con loro, per caratteristiche personali e capacità di interpretare la partita, due soluzioni di gioco che possono tornare utili al Bologna, soprattutto quando si tratterà di cambiare ritmo alla partita. Probabilmente non possono giocare insieme, il Bologna ne perderebbe in fisicità e nel centrocampo a Treguana e Mingazzini appaiono poco sostituibili, ma rappresentano due frecce che Colomba sicuramente utilizzerà anche nel futuro più immediato. 3-Ma Razzina è qualcosa di più di un'alternativa. Rispetto ad Osvaldo ha una confidenza con il gol che l'argentino, pur dotato di una classe superiore, non ha. Ha dimostrato in queste ultime settimane di essere un giocatore pienamente recuperato. 4-Se Gimenez sta cominciando ad ingranare va fatto un discorso diverso per Santos che, nonostante il gol segnato sabato, sembra ancora un corpo estraneo e questo Bologna, sembra ancora non aver capito fino in fondo con che realtà si sta misurando. A Catania ieri circolava una voce. E riguardava Osvaldo. Pare che sia lui il primo obiettivo del direttore sportivo Lomonaco per un attacco da rinforzare. Si sta chiudendo l'anno solare di Osvaldo in rosso-blu. È stata un'annata carica di promesse non mantenute. Osvaldo è un capitale della società, è stato ripetuto da più parti a Casteldebole. Sacrosanto! I menarini l'hanno pagato 7 milioni. Gli è stato fatto un contratto quinquennale per una cifra a salire dagli 800 mila della prima stagione fino al milione e 200 mila dell'ultima. Trattasi di investimento. Due nomi, infine, che rimbalzano intorno al Bologna. Uno è una vecchia conoscenza persa questa estate per 100 mila euro. Che va Anton, attualmente al Siviglia. L'altro è l'attaccante Rafik Diebour, in forza alla Ecatene. 23 anni, algerino nato a Grenoble, è stato seguito in questi mesi dal Blackburn, dal Celtic e anche dal Bari. Il resto del Carlino. Moras mette la museruola schieva, ma la sua Grecia non riesce a vincere. Avangelis Moras alla sua Grecia non sono bastati 90 minuti di sabato sera ad Atene per avere la meglio dell'Ucraina nella gara 1 del doppio spareggio che vale un posto ai mondiali del Sudafrica, conclusasi 0-0. Il difensore rosso-blu è rimasto in campo per tutta la partita. Platonica la soddisfazione di aver messo la museruola Schiedkenko. Toccava alla Grecia fare la partita ma gli uomini di Reagel non ci sono mai riusciti. Morale. La qualificazione i greci se la giocheranno mercoledì. Moras ancora una volta dovrebbe giocare dal primo minuto. Ieri invece è rimasto in campo per 63 minuti Steven Appiah in Ghana-Mali, gara di qualificazione ai mondiali, il Ghana ha già il biglietto in tasca, terminata 2-2. Mercoledì è in programma l'amichevole tra Angola e Ghana ma il Club Roswell conta sui buoni uffici di Appiah, che proverà a convincere il CT a fargli saltare la sfida, anticipando così il suo rientro sotto le due torri. Il centrocampista dovrebbe già avere in tasca il visto col permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Per quanto riguarda invece il transfer della Federcalce turca, il Bologna attende novità entro la metà della settimana. Anche se resta difficile ipotizzare che Appiah possa essere liberato in tempi brevi. Osvaldo e il Rossoblu. C'è un mese e mezzo per amarsi o dirsi addio. Ha recuperato alla causa Mugingai, nonostante l'ostilità manifesta della curva nei confronti del giocatore. Ha reintegrati a tutti gli effetti Moras, che aveva pagato con la panchina lo stracismo prolungato di Papadopulo. Ha trasformato Marazzino ad emarginato a primo tifoso della squadra, lo si è visto contro il Palermo, quando il Conte Max nei minuti finali incitava come un ultra Gimenez senza preoccuparsi del fatto che l'ingresso in campo dell'Uruguaggio aveva tolto spazio a lui. Adesso all'allenatore del Bologna Franco Colomba resta la missione impossibile di fronte alla quale hanno già alzato bandiera bianca sia Mialovic che Papadopulo. Tra re dal talento puro di Osvaldo il succo di un rendimento finalmente da protagonista, senza gli alti e bassi che hanno contraddistinto anche questo suo inizio di stagione. Intanto è già una buona notizia che si siano registrati degli alti. I tre gol segnati rappresentano un bel passo in avanti al nulla cosmico dell'ultimo campionato. Ma adesso per Osvaldo non è in gioco tanto il rendimento quanto la predisposizione mentale a mettersi totalmente al servizio della squadra, accettando anche le domeniche in panchina, o in tribuna, dopo quelle vissute in campo da protagonista. Qualche giorno fa Di Baio, citando l'esempio virtuoso di Ada Hilton, ha ricordato che il brasiliano dopo il gol alla Juve è andato in panchina ma non per questo ha smesso di lavorare. Parole che sembravano cucite su misura per l'Osvaldo sbogliato che la scorsa settimana ha indotto Colomba ad escluderlo dalla lista dei convocati. Tempo per riconquistarsi la fiducia del tecnico ce n'è. Quanto alla fiducia di Moggi, dopo che l'ex direttore generale della Juve ha bollato Osvaldo come quello che dovrebbe pagare per giocare nel Bologna, l'operazione sembra più complicata ma a dire il vero non sembra nemmeno così decisiva. Osvaldo adesso ha davanti a sé un mese e mezzo decisivo. O dimostra di sapere accettare le regole del gruppo anche a costo di dolorose esclusioni oppure la sua strada e quella del Bologna a gennaio potrebbero dividersi. Ieri dalla Sicilia è rimbalzata la voce di un interessamento del Catania, il cui amministratore delegato Pietro Lomonaco è da sempre estimatore del bizzoso ma talentuoso attaccante. In prestito e in comproprietà, più probabile la prima opzione, considerato che il Bologna per la metà del suo cartellino non chiederebbe meno di 3 milioni, è una soluzione da non scartare. Posto che non è sicuramente l'attacco il reparto da rinforzare al mercato di riparazione, l'eventuale uscita di Osvaldo aprirebbe le porte all'opzione Tevanton, sfumata per un onnulla fine agosto o a quella più futuribile vista l'età del giocatore dell'attaccante algerino Rafik Diebour, classe 85 in forza all'AEC. Quello greco è un bacino in cui il direttore sportivo Salvatori ha spesso pescato con intuito. Sempre che a gennaio abbia ancora voce in capitolo per fare il mercato del Bologna. Grazie a tutti.